sono qui con google world e voglio e sono in una tabella e quello un po problema voglio portare questo 745 come qua alto come qua io posso fare in alto però rimane sempre lo spazio dunque non va bene così c'è qualcos'altro allora faccio tasto destro ok e non posso fare inserire riga niente elimina riga niente fissa intestazione fino a questa riga niente ordina tabella niente l'avevo trovato visualizza ulteriori azioni suggerisce inserisci salva in chi modifica la renda cancella formatazione è però se cancello formatazione lui non è proprio quello giusto c'è un io faccio così tasto desto caspita formato neanche qui perché cancella formatazione non volevo cancellare la formatazione ok formato interlinea spazio rimuovi lo spazio prima del paragrafo dunque i perché io ho lo spazio dunque qua interlinea spaziatura grafico rimuovi lo spazio prima del grafico mi va su torniamo giù così tac vabbè è utile questo è dunque se si seleziona ok tutto formato abbiamo detto interlinea e si aggiunge uno spazio prima del grafico qui non posso dopo dopo il grafico vabbè dopo il paragrafo elimina spazio sopra il paragrafo vabbè ci vediamo alla prossima rivederci